L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 è stata superata a Sciacca, ma adesso è necessario fronteggiare la difficile situazione economico-finanziaria che ne è scaturita. L'associazione politica Sciacca al Centro, da questo punto di vista, valuta negativamente l'operato dell'amministrazione guidata da Francesca Valenti. Lo evidenziano in un comunicato stampa Domenica Sale e Gigi Marino, rispettivamente presidente e portavoce del Sodalizio, che si intesta all'ex sindaco della città Fabrizio Di Paola e che ha in Salvatore Monte il proprio rappresentante in Consiglio Comunale. Occorre riprendere il dibattito politico in città che si è arenato a causa della grave pandemia, sostiene Sciacca al Centro nell'annunciare, tra l'altro, una serie di incontri con le categorie produttive e con parti professionali per ascoltare e recepire proposte, punti di vista ed esigenze. Il giudizio nei confronti dell'amministrazione Valenti, come dicevamo, è fortemente negativo, così come per Sciacca al Centro è ormai irrimediabile la distanza con chi ha il governo della città, anche a causa del recente inasprimento dei rapporti tra le forze politiche. Nessuna proposta, segnalazione e suggerimento che arrivi dai gruppi consigliari di opposizione viene tenuto in debita considerazione dell'amministrazione comunale. Ne consegue per Sciacca al Centro che un dialogo e una collaborazione con la Giunta sono ormai da escludere, nonostante la grave situazione economica in cui versa la città. Da parte nostra, annunciano, lavoriamo alla predisposizione di un programma di governo alternativo a quello dell'attuale amministrazione.